Ma che bello, bello, ma con di rondello Scegli, fermi! Scusate Vedo una dolce creatura E allora, West and D, vado incontro al creato Ehi, dove vai? Tu che sei novello Novello, ma con di rondello, ma che bello Per piacere, basta, basta! A livello E che brutta figurata Andiamo noi che siamo nel comitato accoglienza Mi piace Buongiorno Buongiorno Posso conferire? Certamente Sto cercando una persona Ehm, mi spiacente, devi andare al comune Ma come? Se i carabinieri possono fare qualche cosa, non so No, ma che c'entra? Io sto cercando un frate Ah, noi siamo noi allora Ecco Che è successo? Sto cercando proprio un frate... frate Francesco Ehm, ci chiamiamo tutti Francesco Eh sì Siamo francescani Giustamente, è chiaro Ehm, frate Francesco Ehm, corporatura media 1,75 di altezza Ehm, sì Beh, qui siamo tutti alti 1,75 con corporatura media Quella è standard E poi, diciamo, come regolamenti Con frate Francesco ha i capelli brizzolati Ehm... 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 Ho capito... Ma come faccio... Ma io ho bisogno di parlare con lui, è urgente Ehm... 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 Andiamo a venire... Ehm... 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 Ma... Tutte le notti! Tutte le notti! Ci troviamo! E questa è una cosa che non si può sentire, veramente! Tutte le notti! Tutte le notti! Non so perché volete a me, sono cose che succedono! Come si fa a trovarlo? Come si fa? Qualche particolare! Veramente, lui ha un segno distintivo! C'è il distintivo! E ditelo! C'è il distintivo! C'è l'etichetta! Che c'è? Ha un segno distintivo, una cosa che lo distinghi! Stinghi! Un particolare! Tipo? Frate Francesco! Sessualmente! 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 28 centimetri! Qua? 28! Hai capito chi è? E dite! Dite! Avete capito chi è? E certo che abbiamo capito chi è! 28 centimetri! Sì! E tutta una volta dovete capire! Ma come avete fatto? Di 28 ce n'è uno! Tutti gli altri ne abbiamo 31! Ah! Facciamo la gara! Eh va bene! Sì! Sei scelto il meno dotato, scusa! Sopra! Precisione! 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 Vipop! Vipop! Reserva! Per concluderemente! Vipop! Oder